La Toscana Solidale si è messa in marcia senza gonfaloni e senza bandiere per percorrere i tre chilometri di strada che dal monumento ai martiri di Padulivo a Vicchio portano alla chiesa di Santa Andrea a Barbiana, dove Don Lorenzo Milani creò la sua scuola. In marcia, con i sindaci del Mugello, anche il presidente della regione Enrico Rossi, che insieme al sindaco di Vicchio, Filippo Carlacampa, ha scritto una lettera di appello per difendere i valori di convivenza, uguaglianza, antifascismo, educazione e democrazia che Don Milani portò avanti per non distorgere il suo messaggio. Proprio in questi tempi noi siamo chiamati personalmente ad un impegno di solidarietà verso chi ha bisogno, personalmente ad un impegno verso chi ha bisogno, senza distinzioni, senza discriminazione di nazione, di etnia, di classe. A noi ci è piaciuto fare questa cosa, questa iniziativa semplice, appunto silenziosa, che però parlava con l'anima di questo luogo e con l'anima delle persone che sono venute numerose oggi a Barbiana. Don Milani è un sacerdote il cui esempio va seguito per tutta la crisi di sanità, ma anche per la società civile. I valori che lui ci richiama sono ancora validi. Il percorso della marcia è stato quello che gli alunni di Don Milani percorrevano sempre e oggi questo è il senso dell'iniziativa nata in accordo con la Fondazione Don Lorenzo Milani è diventato un simbolo di contrasto all'odio e alla discriminazione.